Grande partecipazione a Teramo per l'esibizione di Ermal Meta, che ha chiuso la tre giorni di concertoni di Capodanno nell'ambito degli eventi del Natale Teramano, organizzato dal Comitato Rinascita e dal programma di Abruzzo Dal Vivo. Un successo lungo tre giorni, a cominciare da Cristina D'Avena, è chiuso ieri sera con le 7.000 presenze in totale per il cantante e vincitore di Sanremo. Abbiamo un bilancio che sfiora le 20.000 presenze in città in questi tre giorni, non era mai accaduto, forse anche leggermente oltre le nostre aspettative. Ci scusiamo con quelli che ieri non sono riusciti ad entrare, le variabili erano tantissime, bastava un po' di pioggia e sarebbe venuta la metà della gente presente in piazza, quindi è difficile sempre valutare questi eventi, avere un'idea esatta del numero delle persone, però proprio per la sicurezza di quelli che erano entrati in piazza non potevamo allargare più di tanto le presenze nella piazza. Ci giungono questa mattina ringraziamenti da tantissimi cittadini, dai commercianti, dalle associazioni. Ci dicono che si respira un'area di rinascita. La rinascita passa proprio dall'impegno di tutti i terramani che questo Natale che abbiamo organizzato sono stati veramente in prima linea a lavorare, quindi ripeto, è il Natale di tutti, non è il Natale della nostra amministrazione, è il Natale dei terramani e ognuno ha fatto qualcosa veramente, dalla semplice passeggiata, dalla semplice presenza, dalla semplice cena in un ristorante del Centro Storico fino a noi che abbiamo organizzato gli eventi, ma tutti hanno fatto la propria parte. Grazie alla Regione Abruzzo che ha finanziato con Abruzzo dal vivo questi eventi. Siamo contenti perché l'anno prossimo ci sarà ancora questa possibilità che dà un respiro importante al nostro territorio. Bisogna essere forse un po' più bravi a programmare un po' meglio. Speriamo di avere più tempo quest'anno per organizzarci meglio.